Ma Rocco Bracca è delusione Con l'ipad Grazie Sebi Mi sa che Fedez stava per combinare una cazzata Eeeh In cui si poteva Costare In cui si poteva costare anche alla Francesca Michelin Di turno Allora ragazzi volete sentire la nuova canzone di Fedez? Aspettate che ve la faccio sentire in anteprima Cioè l'avete già sentita qualcosina Fatemi aprire Whatsapp Ok Poi cancello il VOD L'olp Allora ragazzi Grazie.